Oggi vi porto con me a scoprire un posto incredibile, vi do un piccolo assaggio, guardate alle mie spalle Sotto questo sole oggi vi porto alla spiaggia punta est di San Teodoro C'è una bella camminata, ma vale la pena perchè il paesaggio è fantastico Scopriremo insieme uno dei posti che ancora non ho visto Qualcuno mi ha chiesto come mai ho iniziato a fare questi video che non attengono propriamente alla professione In realtà soltanto per passione, io queste passeggiate, queste scoperte le faccio anche da solo E mi faceva piacere portare anche voi in questi posti bellissimi La camminata è un po' faticosa, ma in realtà ne vale la pena Vi faccio vedere Poi adesso nei commenti ditemi cosa ne pensate di questi video, mamma mia guardate tavolara dietro Rende bellissimo qualsiasi paesaggio di questa zona, ho intravisto la spiaggia, adesso vi ci porto Eccoci alla spiaggia punta est E ancora presto, il sole non è alto, ma guardate che spettacolo l'acqua L'avete visto? Adesso lascio la spiaggia qualche minuto e vi porto con me a visitare qualche caletta Allora, valutazioni Secondo me, per gusto personale, la spiaggia non è da 10 Nel senso che la sabbia non è chiarissima per come prediligo io le spiagge Però il paesaggio è assolutamente impagabile E' una passeggiata incredibile E poi guardate come cambiano i paesaggi Non so se intravedete il rosso di queste rocce Guardate Che fa da contrasto con l'azzurro del mare, bellissimo Poi scrivete anche nei commenti cosa ne pensate Vi faccio vedere il contrasto tra il rosso e l'azzurro dietro Incredibile Allora 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 I Allora 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 ecco qui ci sono le calette guardate ci sono vari spazi e noi abbiamo scelto proprio di metterci qui per stare in tranquillità in questo paradiso non potevano portarvi anche in acqua quante cristalline e io da questo bagno rilassante vi saluto e vi auguro una buona giornata ciao 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 ciao